Operazione antidroga dei carabinieri della compagna di San Luri in collaborazione con i cacciatori di Sardegna e di Abbasanta e il nucleo di elicotteri di Elmas. I militari hanno scoperto in agro di San Massi, in località Pimpisu, una coltivazione di marijuana composta da oltre 7.000 piantine. La coltivazione di cannabis era occultata all'interno di una di grano turco. I carabinieri hanno fermato due persone originarie di Mamuglia d'Eurune, trovate all'interno della coltivazione di cannabis. Le piantine sono state stirpate e distrutte. I particolari dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa ospitata nel comando provinciale di Cagliari. I militari hanno avviato le indagini per individuare eventuali complici delle persone arrestate.